E' stato di magnitudo 3.5 la scossa di terremoto che si è verificata alle 15.03 di oggi nel tratto di costa tra Pesaro e Cattolica. L'epicentro del sismo è stato a 19 km dalla costa e ad una profondità di 34 km, ma è stata avvertita nettamente da Rimini fino ad Ancona. Inizialmente era stata classificata dall'ingv come 3.7, poi dopo le verifiche dei grafici alle 16.38 è stata riclassificata a 3.5. Ma tanto è bastato per scatenare nei marchigiani nuovamente la psicosi terremoto con un tam tam sui social più veloce della luce che ha scatenato subito migliaia e migliaia di commenti che come sempre avviene mettono insieme uno zibaldone di casistiche che vanno dalle perforazioni delle piattaforme a largo fino alle onde anomile dei giorni scorsi e perché no anche al terremoto della Grecia che ha tirato qualche ora prima. Anche se la scossa è stata di breve durata comunque, una manciata di seconde, i centralini comunque di vigili del fuoco e polizia locale sono stati bersagliati di telefonate ma al momento non si registrano danni né a persone né a cose nella nostra provincia. Cosa comune o quasi a tutti coloro che l'hanno nettamente avvertita è il fatto che dopo la scossa istintivamente tutti hanno alzato gli occhi guardando i lampadari che però sono rimasti immobili, probabilmente perché il moto della scossa è stato quasi esclusivamente sussultorio e non ondulatorio.